Stanno fallendo, l'Inter sta fallendo, ho tre i debiti, stanno fallendo, mi toccano la stella Sono giorni duri, cari Juventini, sono giorni duri per voi, aspetto l'annuncio di Antonio Conte Ma intanto, per tutti i fenomeni Juventini, Juventini, fenomeni qui su Youtube Lautaro Martinez rinnova con l'Inter, contratto di 9 milioni, più bonus, fino al 2029 Che è successo qua? Che è successo qua? Come dice Donato Inglese, che è successo qua? Juventini, avete preso l'ennesima dimostrazione, avete preso l'ennesima dimostrazione Che vado a sta zitta, che quando fate quei video, stanno fallendo, di qua vi spiego tutto, il finanziamento, di qua e di là L'Inter mette a segno il primo colpo delle Rock 3, rinnovo di Lautaro Martinez e... E... visto che devono fallire e dovranno fallire bene, ci mettono pure il rinnovo di Simone Inzachi Avete visto? Avete visto? Avete visto? Eh ma ora l'Inter con la nuova società, di qua e di là Vedete che voi, i Juventini a me mi fanno morire A me mi faccio morire, perché di qua e di là stanno fallendo La Daro Martinez non tradisce l'Inter, accetta il rinnovo di 9 milioni Si parlava di 12-13 milioni, voleva, chiedeva, accettato 9 milioni Accetta il contratto di 9 milioni, lo legherà ancora all'Inter E ragazzi, ora, se non sbaglio, pochi giorni fa, un mesetto fa, forse all'incirca Forse doveva ancora finire il campionato L'Inter già aveva annunciato il rinnovo di Barella Cari interisti, venitemi in soccorso, vi supplico Perché, sapete, io tifo Napoli, però parlo anche delle altre squadre Lo sapete, Milà, vedete, mi sono pure scordato Voglio il tasto like e il commento E l'iscrizione che dobbiamo arrivare agli 8k Quindi forza Allora, allora, vedete quando io vi dico Che, quando io vi ho fatto, quando ho fatto uscire quel video L'Inter non sta fallendo, l'Inter non fallirà Addirittura Lautaro se ne va, il Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco Se ne va, se ne va Vi hanno mutolito per l'ennesima volta Vedete? Ragazzi, ma quando c'è uno come Marotta E qui bisogna dirlo Qua anche quando era la Juventus Marotta sa fare il suo lavoro E' inutile che di da sono protetti di qua No, c'è gente competente E' come quando la Juventus c'era Conte, c'era Marotta Conte e Marotta se siete quelli che siete diventati poi negli anni successivi, eh? Quindi ragazzi, non venite a dirmi stronzate Marotta, la Marotta lì, la Marotta lì L'Inter mette a segno il colpo che potrebbe valere già lo scudetto dell'anno prossimo Con Lautaro Martini Tra Lautaro le tre va via Non accetterà mai Il rinnovo così basso A 9 milioni 9 milioni Più bonus Fino al 2029 E mo, cari Juventini, cosa direte? E io aspetto, c'è ancora l'annuncio di Conte Che potrebbe arrivare Ma ne parleremo nel video delle ore 15 Nelle ore 15 Non vi preoccupate Perché parleremo pure lì Non vi preoccupate Ci sono grossissime novità Per quanto riguarda Conte il Napoli Quindi continuate a fare video Sull'Inter Contro l'Inter Perché mo, di sicuro arriveranno i via Ah, tu parli dell'Inter Per le visualizzazioni Per il caso No, io parlo semplicemente Cosa c'è scritto video Sul Napoli E in generale Sul mondo del calcio Ragazzi Oramai siamo fermi E' finito il campionato Bene Dove dobbiamo andare a prendere le notizie? Sui giornali Su Sky Sport Sport Mediaset Sport Italia Andiamo a prendere le notizie Ed è arrivata Secondo Sky Sport Sky Sport Secondo Sky Sport Scusatemi Che Lautaro ha rinnovato E ragazzi Muti e zitti Perché l'Inter sta ricostruendo La squadra per il prossimo anno E il rinnovo anche di Simone Inzaghi A questo punto Significa Che l'Inter vuole Vuole, secondo me Puntare a provare a vincere Anche la Champions League Anche se Ragazzi Guardiamoci in faccia Siamo 7400 6600 Guardiamoci in faccia Diciamoci la verità L'anno prossimo Il Real Madrid Potrà vincere Altre 3-4 Champions A figlia Vista Lo squadrone Che sta facendo Però Però Intanto L'Inter mette a segno Due grandi colpi Ragazzi Come si vincono Gli scudetti Riconfermando la squadra Riconfermando Gli uomini Che tu hai Poi Ogni campionato C'è una storia A sé Diciamoci la verità Poi Volesse il cielo Venisse conti A Napoli Comunque Cari giuventini Questo è solo per dirvi Che quando fate i video Pure i milanisti I romanisti Tutto quando Quanti fate questi video Scemi L'Inter deve fallire Perché Oc3 è entrato in società Leon Rocca Addirittura Leon Rocca Ti do a capire Che cosa Mi le diciano Leon Rocca Addirittura Di qua Di là Non avete ancora capito Nucaz Sinceramente Non avete ancora capito Nulla Cosa vi dissi io L'Inter Semplicemente Può fare pure Un trilione Di debiti Fino a che Non vengono Inerenti Alla società Inter E sono gli esterni Che fanno i debiti All'Inter Se ne passa pocazza L'Inter L'Inter Non potrà mai Essere toccata Come non è toccata La Juventus Ma quando hanno detto Dobbiamo tutelare Il brand Juventus Dove cazzo stavate? Dove stavate? Scusatemi un attimo Che dovevate essere Raghiati A Ropp Calciopoli Dovevate ripartire Dalla terza categoria Ma po Però Però Vedo dall'altro lato Che ci sono pure I juventini seri E possiamo dirlo Seri Perché poi Naturalmente Molti fanno i personaggi Ma ci sono I juventini seri Questo bisogna dirlo Ci sono i juventini seri Comunque L'autorio rinnova Meno male Dovevano fallire Meno male Pensa se non dovevano fallire Chi si accattavano? Ma bu Detto questo Iscriviti al canale E fammi sapere la tua Ci vediamo più tardi Nel video delle 15 Per parlare di Antonio Conte Anche a poco Vai un Grazie a tutti